Sono Susanna Sappia, abito a Soresina in provincia di Cremona. Lavoro in una cassa di riposo, però ho un secondo lavoro, tratto i prodotti per la salute. E avevo conosciuto, che poi è diventata una mia amica, Giovanna De Lecco, che mi ha parlato di questa clinica turismo dentale. Mi disse, guarda che un amico è andato, si è trovato bene, poi ha risparmiato. Allora, come io avevo questo problema dei denti, che avevo solamente i denti davanti, non sorridevo più, o se facevo una finta di sorridere un po', e questo mi comportava dei problemi, perché la masticazione è molto importante, come lo è anche la parte economica. Sono andata l'anno scorso a ottobre, la prima volta, ho mandato questo preventivo, loro mi hanno risposto, gentilissimi, e tanto il dottor Palmas, come Ilaria, come le ragazze della clinica. Di lì che mi sono decisa ad andare. E sono stata adesso prima di Pasqua, per finire il lavoro. Adesso posso ridere tranquilla, ho tutti i denti. È stato in un primo momento abituarmi a cambiare la masticazione. Hanno cominciato a lavorare questi muscoli della faccia, perché avevo la faccia tutta così, perché questi muscoli non funzionavano, non lavoravano più. Adesso, se sta tornando alla normalità, posso consigliarlo. Mi sono trovata molto bene. Poi questa organizzazione di questo turismo, queste gite che si fanno, si conoscono tanti italiani là, no? Perché la maggioranza della gente, non solo per il risparmio, se no perché sono dei professionali molto vali, gente molto competente, si sente subito come a casa. Andrò a fare un controllo, non so, quando ancora. E poi, dirle altro è che lo consiglio, veramente, perché è importante sapere che in altri posti possono fare lo stesso lavoro, o meglio ancora, spendendo molto meno, con delle persone qualificate. Un caro saluto a tutti. Ciao, Dottor Palma, ciao, Ilaria, ciao, Angela, Diana, Inga, il Dottor Vladimir, a tutti voi, un carissimo saluto, a presto.